Buonasera e ben ritrovati col solito appuntamento di Villa Fairy League per visionare assieme una splendida partita oggi di calcio a 5 quella che vede sfidarsi il Fides contro il Mickey Bike. Andiamo a leggere le formazioni parto proprio dal Fides in tenuta nera che attacca da sinistra verso destra con il numero 16 tra i palli che è anche il capitano Pozzato Andrea con il numero 3 Zampirona Andrea con il numero 4 Marinesco Marius con il numero 6 Rinaldo Filippo con il numero 7 Tofano Marco con il numero 10 Zecchin Fabio con il numero 11 Valente Antonio con il numero 13 Magagnotti Alberto. Quindi la formazione del Mickey Bike in tenuta bianca che attacca da destra verso sinistra con il numero 1 Cuzzi Mauro con il numero 6 Barison Davinu con il numero 8 Michelon Simone con il numero 9 Barison Michele con il numero 16 Canton Francesco che è anche il capitano della formazione e con il numero 17 Donato Miro Come ho detto appena cominciato questa è una partita del girone B2 attualmente il Mickey Bike si trova settima in classifica con 10 punti in 7 partite giocate mentre il Fides si trova quinto in classifica con 12 punti in 8 partite giocate se volete comunque sapere più dettagliatamente la classifica non dovete far altro che scaricare ovviamente l'applicazione Calcio Amatoriale applicazione disponibile sia per Android che per iPhone qui troverete veramente tutto dalle classifiche i genoni calendario la classifica miglior portiere e la classifica capocannoniere quindi scaricatela per avere il campionato a portata di smartphone prima occasione come abbiamo visto subito per il Fides bravo Cuzzi a mettere il piede e mettere in calcio d'angolo subito nell'esecuzione del calcio d'angolo ancora una volta Cuzzi bravo a sventare il pericolo ha dovuto tuffarsi proprio nel lato destro basso e sventare l'ennesimo pericolo subito dopo due minuti già due bei pericoli consecutivi per il Fides Marison prova il dribbling buona la retroguardia del Fides prende la palla al numero 4 Marinescu poi tira in porta facile per Cuzzi in presa bassa rimessa al fondo ancora per Barison Barison si destrege non dribbling gli riesce anche poi non gli riesce il passaggio fortunatamente per lui riesce a trovare però la rimessa laterale a favore del Mickey Bike stanno studiando le due squadre anche se dai primi minuto dopo un minuto già due pericoli per il Mickey Bike bravo Cuzzi il portiere a sventare l'ennesimo pericolo vado a leggere con chi dovranno affrontarsi la prossima gara il Fides andrà a vedersela col Bitfinger Bitfinger che attualmente si trova in quarta posizione mentre partita difficilissima la prossima quella per il Mickey Bike perché andranno a affrontare gli All Blef squadra blasonatissima che si trova ovviamente in prima posizione dico ovviamente perché dicendo squadra blasonatissima solitamente si parla delle capolista All Blef anche vincitrice della scorsa edizione quindi una squadra veramente ostica hanno nella loro rosa anche due ex giocatori di altissimo livello quale Guarnaccia che ha avuto l'onore di giocare nella massima serie di questo sport e Turin un altro giocatore che ha militato in serie B di questo sport quindi due veterani del futsal pensate che gli All Blef hanno 18 punti in 7 partite 71 gol realizzati 30 gol subiti considerando che il secondo miglior attacco ne ha 60 e la seconda miglior difesa ne ha 29 uno in meno quindi vabbè un attacco veramente incredibile quello degli All Blef bene torniamo però a questa partita perché è questa che oggi ci interessa ricordo la novità da due settimane è stato deciso che io ho il piacere di eleggere il miglior giocatore di giornata un po' come fa Sky diciamo il premio Sky noi diamo il premio Villaferri cosa consiste questo premio beh consiste in una bibita presso il bar di Villaferri quindi verso la fine della gara dirò il nome del giocatore che secondo me è stato il miglior giocatore di giornata questo non dovrà fra altro che recarsi presso la segreteria di Villaferri nome e cognome e la gara di cui stiamo parlando e quindi verrà dato il buono appunto per la bibita presso il bar di Villaferri rimessa laterale nella propria metà campo per il Fides Fides che non accelera molto sulle gambe temporeggia abbastanza recupera una rimessa dal fondo dalla banda laterale sinistra contro piede due contro Cuzzi e Cuzzi alla meglio ancora in presa bassa portiere questo qui blasonato Cuzzi lui gioca in ben tre squadre differenti ricordo che il regolamento prevede sia possibile purché giochino in gironi completamente opposti quindi lui gioca in una di calcio a 5 e due di calcio a 8 e le due di calcio a 8 giocano in gironi opposti poi in caso di playoff visto che quest'anno sono incrociati e le due squadre dovranno affrontarsi lui ovviamente deve scegliere con che squadra giocare rimessa laterale ancora per il Fides questa rimessa laterale a essere proprio Pignoli sarebbe stata da ripetere ricordo gli piedi non devono nemmeno toccare la linea però difficile questa per l'arbitro poterle vedere ragazzi qua una nota positiva agli arbitri di Villaferri questi sono arbitri selezionati tra tutti gli arbitri che vengono per poter arbitrare a Villaferri e ve lo assicuro che molti arbitri richiedono di poter venire nell'organico di Villaferri per poter arbitrare quindi un campionato è stato blasonato anche per il settore arbitrale ho anche una piccola curiosità tra gli arbitri di Villaferri è stato aggiunto un arbitro che arbitra in serie B quindi è un arbitro di altissimo livello noi spesso li maltrattiamo gli insultiamo ma ragazzi l'unica cosa che realmente non si può fare a meno per giocare una partita è proprio l'arbitro prima rete per il Mickey Bike eseguita dal numero 9 Barizon anche fortunato ma bravo a trovare l'angolino alla sinistra del povero Pozzato che non può nulla che si ritrova la palla proprio tra i piedi lui era anche vicino al primo palo la traiettoria era millimetrica a fil di palo quindi 1 a 0 adesso per il Mickey Bike siamo esattamente al decimo minuto del primo tempo regolamentare Mickey Bike è una squadra che esiste veramente da molti anni beh da soli due anni ha deciso di fare il calcio a 5 ma in tantissimi anni ha fatto non so nemmeno quanti campionati di calciotto purtroppo forse l'età dei loro compagni di squadra hanno fatto sì di appendere come si dice le scarpe al chiodo e quindi trovandosi in pochi fedeli hanno scelto di fare il calcio a 5 e la dimostrazione è che anche oggi sono solamente in 6 numero proprio al minimo della sufficienza per poter partecipare a una partita vedo in campo adesso il giocatore donato Miro il numero 17 del Mickey Bike giocatore che credo abbia fatto parte anche della prima edizione in assoluto padovana del calciotto che si giocava al cover con il nome di Fabrizio Rendina questa era la prima edizione appunto del calciotto padovano credo proprio di non sbagliarmi a dire che Miro faceva già parte di quel campionato dove lui giocava nelle squadre più blasonate ve lo assicuro è ancora un buon giocatore nonostante l'età avanzi per tutti lui era uno dei giocatori che più mi ha impressionato in passato era un difensore veramente eccelgico Marison prova l'incursione centrale retroguardia buona per il Fides commessa al laterale chiama la palla il 1-10 non gli riesce il passaggio e trova rimessa laterale il Fides che riparte con il numero 3 Zampiron hanno difficoltà a trovarsi i giocatori del Fides Barison lungo l'altro Barison rimessa laterale a supporto c'era il capitano ma sceglie di darla lunga a Donato uno contro uno ti mette in serie difficoltà Cuzzi che comunque aveva coperto bene il palo palo palla che sfiora veramente il palo sinistro Cuzzi Cuzzi per Barison Barison calcia e butta via una palla rimessa laterale eseguita da Pozzato portiere del Fides viva il 3 Zampiron Zampiron che cerca e trova Zecchi questi non sono tiri che possono impensilire un portiere bravo come Cuzzi niente da fare aveva provato aveva provato Barison Michele numero 9 a impensilire la retroguardia non ci riesce adesso è una fase di studio tra le due squadre Donato per Barison hanno ragione a dirsi parole attenzione 3 contro Cuzzi alla meglio però Cuzzi una bella parata a chiudere lo specchio a Toffano che a botta sicura pensava fosse a botta sicura invece di sicuro c'era che Cuzzi mette il suo corpo anche possente nulla di fatto bella serie di dribbling e questa volta era stato veramente bravo Marinescu con una serie di dribbling aveva seduto anche Cuzzi poi non trova però lo specchio e palla che si infrange rimessa dal fondo siamo al diciottesimo minuto sempre 1 a 0 forse fallo di mano sì fallo di mano punizione e bravo il capitano Cantona a fare scudo con il proprio corpo calcio d'angolo per il Mickey Mike che batte di fretta mamma che è rimessa dal fondo qui sbaglia tutto pozzato rimette dal fondo e becca la testa del compagno favorendo proprio l'attacco del Mickey Mike per sua fortuna non è andato a buon segno altrimenti veramente avrebbe rischiato il linciaggio da parte dei suoi compagni Donato Marinescu attenzione questo ragazzo ho visto già prima che ha un buon dribbling 3 contro 2 e Barison allarga Michelon scusate allarga troppo il tiro e non trova lo strapporta quindi facile rimessa al fondo per Pozzato che fa ripartire i suoi stanno giocando veramente a viso aperto è quasi una partita tennistica perché attaccano prima da una parte poi dall'altra le squadre che hanno nel loro potenzialità la fase offensiva 2 contro 1 è attesi bravo Marinescu a mettere la palla sul secondo pallo a Zecchin che facile insacca la rete del pareggio 1 a 1 siamo a pochi secondi dal ventesimo quindi ancora 5 minuti da giocare per la fine del primo tempo regolamentare una piccola curiosità sapete che nel calcio a 5 i tempi ufficiali parliamo quelli della FGC sono 2 tempi da 30 minuti questo vale solo nella serie D e nella serie C2 mentre dalla C1 alla serie A1 i tempi sono da 20 minuti però effettivi quindi con l'arbitro cronometrista che blocca il tempo ogni volta che il gioco si ferma riparte la fase offensiva del Fides Palla sprecata aveva provato il lancio lungo per il numero 13 Magagnotti iniziona Barison Barison Michielon ancora Barison finta e con qualche fortuna riesce a passare rimessa laterale quasi un calcio d'angolo per il Mickey Mike mette indietro per Donato Donato 2 dribbling poi al secondo dribbling trova i piedi di Valente rimessa laterale l'arbitro la concede però al Fides non sembrava così ma non ci sono state proteste quindi ha ragione l'arbitro Guzzi lunga per Michielon Michielon Donato Donato prova un lancio lungo per Michielon si era portato vicino all'area avversaria ancora una rimessa che a mio parere era da ribattere e poi per il regolamento non sarebbe nemmeno da ribattere ma semplicemente viene data la rimessa laterale agli avversari ricordo da quest'anno il regolamento anche sulle rimesse laterali è cambiato una volta se vi ricordate la rimessa laterale se veniva battuta e la palla non entrava se aveva la possibilità di poterla ripetere da quest'anno il regolamento è cambiato anche se la palla non entra in gioco comunque viene data la rimessa laterale agli avversari una rimessa laterale per i Fides quasi un calcio d'angolo e bravo 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 Marinescu a provare di prima attenzione sulla pallombella Donato cerca Barisone trova la testa però del back difensivo del Fides Marinescu palla al piede poi decide di metterla in banda a destra all'undici Valente buona retroguardia di Michelon Marinescu è un ottimo gioco di gambe anche piuttosto veloce questo ragazzo dal cognome credo romeno Donato palla al piede e ci mette la zampa pozzato Donato sentiamo come pacchiamo la palla col fiatone però ragazzi questo giocatore è di tutto rispetto anche se sicuramente abituato a un controllo di palla diciamo della palla da calcio comunque si sta comportando egregiamente anche con la palla da fuzza che sicuramente è un impatto completamente diverso la curiosità come molti magari si chiedono come fa un pallone da calcio a 5 e non rimbalzare è semplice poi come è stato realizzato semplicemente viene cucito con doppia camera d'aria questo fa sì che il pallone rimbalzi poco rispetto al pallone da calcio che ha una camera d'aria solamente calcio d'angolo per il mickey bike due sulla palla e bravo pozzato ancora a chiudere lo specchio con la gamba davvero poco circa un minuto alla fine del primo tempo regolamentare ricordo ancora risultato per ora uno a uno tra fides e mickey bike mickey controlla la palla in fase difensiva palla tra le manone di cruzzi cruzzi lungo a cercare michelon lo trova ma non riesce ad agganciare bene la palla e palla che si infrange rimessa al laterale ripartono il fides è bello il numero 7 toffano a incrociare palla sul secondo palo di cruzzi non trova lo specchio per poco nulla di fatto ancora contropiede marinescu marinescu perde la palla e riparte barizon ben contropiede 3 contro 3 e alla meglio il numero 6 barizon davide a segnare la rete del 2 a 1 per i mickey bike andiamo a vedere replay forse non esce proprio in modo impeccabile pozzato troppo troppo alta troppo alto il baricentro di pozzato do un piccolo mi permetto di dare un piccolo consiglio a pozzato siamo proprio al 25esimo inoltrato quindi pochi secondi alla fine del primo tempo regolamentare rieccoci per il secondo tempo partita del girone B2 tra i bike e fides fides che adesso attacca in tenuta nera da destra verso sinistra mickey bike in tenuta bianca ovviamente che attacca da sinistra verso destra vi ricordo ancora una volta che verso la fine di questa partita dirò il nome del giocatore che per me è stato il miglior giocatore in campo di oggi questo avrà diritto a una bibita presso il bar di Vidaferri Donato palla dai piedi difficoltà portagliela via e poi con un bel dribbling riesce a uscire dalla propria difesa l'ho detto prima questo giocatore non fatevi ingannare dall'apparente età perché questo questo signore veramente è dotato di un'ottima tecnica e poi ha un'esperienza veramente da vendere vicino adesso il Fides nel contropiede è una bella rete probabilmente Cuzzi qui avrebbe avuto difficoltà a sventare il pericolo e parte la manovra frissiva del Fides troppo larga la palla messa da Zekin si infrange rimessa laterale donato a vater questa rimessa laterale stavo proprio pensando che i due giocatori che oggi secondo me stanno stanno come dire un po' superando le qualità rispetto agli altri stavo pensando proprio a Donato Cuzzi e anche un giocatore del Fides Marinescu poi vedremo nel proseguo della partita come si comporteranno i tre per per ora diciamo che la scelta la scelta mia è tra questi tre giocatori che ho appena elencato bravo Cuzzi ancora una volta a dire di no è già diversa occasione salva il risultato Cuzzi prima parlavo di Futsal e non calcio a 5 perché Futsal è il giusto nome di questo sport questo sport che nasce nel 1937 attenzione nulla da fare nasce nel 1937 e non dove molti pensano al Brasile ma nasce in Uruguay anche se sempre una squadra sudamericana sempre una nazione sudamericana comunque nasce in Uruguay la cosa particolare è che l'Uruguay non ha mai vinto un mondiale di questo sport anche se ne è l'inventore Marinescu palla al piede bravo il capitano del Mickey Bike a dire di no all'incursione del Fides i due Barizon effettivamente hanno ragione i compagni del numero 16 del numero 9 Barizon a lamentarsi che aveva fatto un tiro veramente da metà campo tira difficile difficile che possa andare a segno da così lontano rimessa laterale da buona posizione Barizon si destreggia in tre bei dribbling consecutivi palla tra i piedi di Donato lunga non trova il compagno e vicino alla rete Barizon Michele il capitano parte manovra offensiva del Fides intercetta Donato ancora Donato per Barizon si perde nel dribbling contro la retroguardia del Fides siamo all'ottavo minuto del secondo tempo regolamentare sempre in avanti Mickey Bike per due reti a uno ci sono state anche diverse occasioni per poter modificare il risultato però non andate a buon segno Valente Superamagnotti Donato ne mette palla per Barizon Barizon per l'altro Barizon Donato Barizon Barizon bel dribbling bellissima la rete eseguita da Barizon andiamo a vedere subito da Barizon Michele 3-1 adesso questa bellissima rete nulla da fare per Pozzato che si era anche allungato con il piede ma non riesce a toccare la palla 3-1 adesso per Mickey Bike bravo Davide Barizon a bloccare l'attacco del Fides ancora Donato Donato bellissimo dribbling e non riesce a trovare la palla per darla a Michele Barizon che era alla destra quindi al secondo palo di Pozzato probabilmente avrebbero potuto fare veramente male ancora una volta Alfides così così facendo Mickey Bike recupererebbe 3 punti in visione della prossima partita oh cosa sbaglia questa era una chiara occasione Barizon la mette al secondo palo per Cantone e Cantone spreca una palla che era più facile a fare che a sbagliare e lui è riuscito a sbagliarla stavo dicendo Mickey Bike verrebbero buoni questi 3 punti perché la prossima partita contro il Blef è una partita veramente ostica quindi un risultato del genere sarebbe sicuramente ottimo per la squadra in bianco di Mickey Bike calcio d'angolo per il Fides andiamo a vedere l'esecuzione lungo la banda tiro di prima Marinescu adesso bravo Barizon e bravo Cuzzi a respingere bel tiro di prima di Zecchin Rinaldi contro Barizon ha avuto la meglio Barizon che placca l'incursione del Fides stiamo avvicinando al quindicesimo minuto quindi dieci minuti al termine dei giochi ricordo ancora perché è una novità e per questo lo ripeto spesso che da qualche partita decretiamo o meglio decreto il giocatore di giornata questo avrà diritto a un premio il premio consiste in una bibita presso il bar di Villaferri Cuzzi dopo due belle parate messa lunga a fare buona guardia però il back del del Fides Barizon Barizon si destregia in vari dribbling poi pozzato costretto a metterci il piede e buttare la palla in calcio d'angolo calcio d'angolo eseguito rapidamente per il Mickey Bike ma erano in due contro quattro difficilmente avrebbero potuto infierire ancora palla per il Mickey Bike con Barizon la mette dietro all'altro Barizon uno contro uno meglio ancora il Mickey Bike brutta parolaccia purtroppo abbiamo sentito Dio non c'entra niente con il calcio ragazzi mordetevi la lingua io no non sono uomo di chiesa però non mi piace molto sentire le bestemmie durante le partite di parte manovra offensiva ancora piedi di Marinescu passaggio largo chiedono il calcio d'angolo il Fides ma l'arbitro dice che è rimessa dal fondo spesso queste due squadre sbagliano passaggi anche piuttosto elementari così dire facili bravo Cuzzi ancora una volta ed è calcio di rigore calcio di rigore giusto a mio avviso calcio di rigore c'era totalmente alla meglio Zekin riguardiamo replay Zekin contro Cuzzi Cuzzi aveva anche intuito l'angolo 3 a 2 adesso accorciano le distanze dopo il calcio di rigore il Fides c'era stata qualche timida protesta da parte del Mickey Bike per il calcio di rigore però ve lo assicuro io ho avuto modo di vedere il replay più volte spesso non li metto proprio per non alimentare polemiche e c'era rigore questo invece non è assolutamente fallo Cuzzi esce in maniera perfetta e sventa il pericolo peccato Barison non riesce a trovare l'impatto giusto per trattenere la palla ancora calcio d'angolo del Fides battuto non in maniera divina Cuzzi adesso si deve stendere per bloccare una timida reazione del Fides adesso potrebbero essere nell'onda dell'entusiasmo il Fides dopo aver accorciato le distanze bravo Cuzzi e bravissimo ancora un'altra volta due respinte incredibili del portierone del Mickey Bike che sta tenendo a galla i suoi ultimi minuti veramente il Fides avrebbe meritato qualcosa in più ma a dire di no sempre è stato Cuzzi due contro uno adesso ritorna la retroguardia del Mickey Bike intanto il cronometro inesorabile se ne va avanti siamo al ventesimo 5 minuti al termine dei giochi partita che solitamente negli ultimi minuti soprattutto quando il risultato è in bilico per entrambe le squadre solitamente regala veramente grandi emozioni Fides con il numero 3 Zampiron fa ripartire la manovra offensiva bravo Barizon che sembra aver cominciato adesso la sua partita perché ne ha ancora molte sulle gambe giocatore che corre molto ha provato anche diversi dribbling difficili qualcuno gli è riuscito qualcuno o meno Fides cerca sempre dalla propria metà campo cercare il pivot alto è una tecnica difficile questa e rischiosa perché se ti intercettano la palla parte il contropiede Zekin la mette troppo larga e regala rimessa laterale per il Mickey Bike Donato Donato Barizon Barizon la perde numero 7 Toffano era riuscito a intercettare questa palla poi non riesce a trattenerla e regala ancora una rimessa laterale per il Mickey Bike adesso Pozzato rimessa dal fondo sempre sempre con questa manovra a cercare il pivot Donato Donato alla meglio bravo vi ho detto che per me i giocatori bravissimo il numero 8 Michelon a realizzare la quarta rete per il Mickey Bike adesso 4 a 2 come abbiamo visto nel replay stavo dicendo i tre giocatori che che per ora mi hanno entusiasmato di più è proprio il portiere Cuzzi Donato e il numero 4 del Fides Marinescu che però si è spento negli ultimi minuti a questa parte oltre che essere in panchina non ha più dato modo di giudicarlo al meglio spesso elogio gli arbitri questa partita ho qualcosa da dire contro l'arbitro ha arbitrato in modo perfetto tranne le rimesse laterali che avrebbe dovuto stare un po' più attento perché Mickey Bike credo che ne abbia ne abbia fatte bene 1 su 10 vi ricordo il regolamento prevede che la palla sia ferma e che i piedi siano fuori dal campo o che non pestano nemmeno la linea Mickey Bike addirittura i piedi erano completamente oh che brutta occasione che brutta occasione sprecata per Marison stavo dicendo la palla può essere anche fuori dalla linea ma non all'interno del campo al di fuori del campo il regolamento prevede 28 cm ovviamente l'arbitro che non può avere il calibro con sé si rende la circonferenza di un pallone ma i piedi devono essere totalmente fuori dal campo altrimenti la rimessa va agli avversari 3 minuti 3 minuti al termine dice il mio cronometro ovviamente ci sarà anche del recupero che però dovremo aspettare per vedere la sentenza dell'arbitro 4 a 2 ancora un risultato aperto a 3 minuti dalla fine è stato stimato che un giocatore ci mette 4 secondi dalla propria dalla rimessa del fondo del portiere consegnata la palla al giocatore più vicino il giocatore ci mette 4 secondi da arrivare nell'area avversaria ovviamente stime che valgono per la massima serie di questo sport noi che siamo amatori potremmo metterci un secondo due secondi di più comunque 6 secondi questa è la stima per un contropiede quindi pensiamo a quanto quanti gol possono avvenire in poco tempo in questo sport e questo è proprio il bello e l'emozione che ci regala il futsal Zekin arbitro che richiama le proteste dei giocatori giustamente qualche protesta di troppo questo è dato sempre dall'agonismo che ovviamente deve e è normale che ci sia in campo anche questa era una rimessa laterale da ribattere c'è da dire a favore dell'arbitro che è anche colpa mia che lui deve stare dalla parte opposta questa proprio per una questione di riprese e gli è stato chiesto di arbitrare dalla parte opposta quindi questo sicuramente complica il lavoro dell'arbitro perché non può vedere bene da una banda all'altra ancora una protesta questa è una protesta inutile di Barisombra che questo non è fallo spesso si pensa a calcio a 5 non esiste contatto questo non è assolutamente vero quello che è vero che accorcia di nuovo le distanze il numero 11 valente per il terzo gol del Fides quindi 4 a 3 adesso risultato a pochi minuti dalla fine l'arbitro ha decretato nel frattempo mentre io parlavo un minuto e questo minuto si sta per spegnere manca veramente poco quindi ne approfitto subito per ringraziarvi e salutarvi augurarvi un buon campionato a tutti il giocatore che per me oggi vince il miglior giocatore in campo è il numero 17 del Mickey Bike donato Miro quindi Miro devi solo presentarti presso la segreteria di Villaferri e ricevere il buono per la bibita omaggio presso il bar del centro la partita finirà per 5 a 3 questo risultato finale grazie a tutti da Diego Gusella è tutto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti